di Azzate, oggi con noi. Grazie, grazie direttrice. Io spendo solo poche parole perché poi il vostro interesse è dedicato agli specialisti che sono qui presenti con noi, che ringrazio. Introduco solo questa giornata e faccio quella che è la mia parte, e cioè ringrazio tutti coloro che sono qui oggi, tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questa giornata e tutti coloro che hanno lavorato nel corso degli anni, mi riferisco anche ai sindaci che mi hanno preceduto, qualcuno è qui, presente in questa sala, e coloro che hanno lavorato con la mia amministrazione, a partire dai consiglieri, dagli assessori e anche dai dipendenti che ci hanno messo del loro e le istituzioni del territorio che hanno contribuito nel rendere possibile la realizzazione di questo libro e anche nel rendere possibile un primo intervento che sotto la guida della sovrintendenza che è qui presente è stato già realizzato e ne abbiamo in cantiere altri con l'aiuto di Fondazione Cariplo. Io ringrazio, non dico chi, nel senso che tutti, ringrazio tutti coloro che hanno consentito questo intervento, leggo solo un incipit del libro che avete trovato, che è, proprio lo leggo, che è più semplice. Quando Gerolamo Tettoni, nel 1749, raccomandava all'erede di conservare la sua dimora ben riparata e piuttosto resa più comoda, ordinando che fosse sempre abitata da persona attenta, fedele e destinata ad averne tutta la cura. Poi l'incipit continua, ma è questa parte che mi interessava. Ecco, la volontà che mi sento in qualche modo di essere riuscito a portare in porto e che fermamente conserviamo e vogliamo portare avanti è quella di conservare questa villa secondo le indicazioni che chi l'ha realizzata ha dato a chi poi la ereditava. In questo momento questa villa è il palazzo comunale, ha qualche piccolo problema anche per i dipendenti che la vivono, che ci lavorano, perché c'è qualche... lavorare in un posto antico, non del tutto restaurato, crea qualche piccolo problema, ma è un onore anche lavorare in un posto bello, affrescato, con gli affreschi da Ronchelli, in un posto che segna magnificenza. E io credo di, in questo pezzettino, di essere riuscito a interpretare questa volontà che si tramanda di generazione in generazione, anche col qui presente Carutti che nella sua parte ha fatto negli anni in cui ha abitato in quella villa e che continuiamo a fare noi che oggi l'abitiamo come sindaco e come amministrazione e come dipendenti che ne hanno cura e che stanno portando avanti questo lavoro. Uno dei modi con cui lo stiamo facendo è la realizzazione di questo libro che raccoglie e lancia verso il futuro questo nostro palazzo su cui stiamo poi anche fisicamente mettendo mano per restaurarlo. Io di questa cosa ringrazio il mio vice sindaco Enzo Vignola perché tutta questa realizzazione è farina del suo sacco, nel senso che è farina del sacco di chi l'ha scritto, cioè i professori che lo hanno scritto e che poi si presenteranno e che hanno raccolto tutto il materiale, che ci hanno messo anima e corpo. Ma la guida e la volontà di portare in porto, di realizzare un testo, è nata il primo giorno in cui siamo diventati gli inquilini di Villa Bossi, Tettoni, Benizi e Castellani ed è riuscita in questi primi anni di amministrazione a avere il risultato di questo libro. Enzo, se vuoi dire qualche cosa come saluto a questa platea, così mi sembra anche giusto, perché è tutto merito tuo che siamo riusciti a portarlo in porto e che sei riuscito anche a raccogliere delle preziosissime esperienze e professionalità che hanno poi scritto questo testo e fatto le fotografie. Grazie mille delle parole e un saluto a tutti. Direi che la realizzazione di questo libro mi ha dato l'opportunità di incontrare persone con una grandissima esperienza, professionalità e soprattutto una grande passione per il lavoro che stavano facendo. E veramente di questo sono orgoglioso di aver incontrato queste persone. Un desiderio, se posso esprimerlo qui, è che al termine di questa breve conferenza venga firmato un volume da parte dei relatori e di chi l'ha curato in modo tale che venga magari messo in una bacheca vicino al gonfalone del comune in modo che rimanga come storia ma anche come messaggio a chi verrà dopo di noi perché sappiano conservare e valorizzare questo importante monumento. Niente, direi che secondo me è la cosa molto importante quello di essere riusciti a realizzare questo volume ma soprattutto di aver reso sensibile la cittadinanza di che cosa hanno all'interno del loro paese. E mi auguro anche che i dipendenti comunali lo sappiano riscoprire così come la stessa cittadinanza abbia l'opportunità magari in un futuro di poterlo visitare molto di più, di poterlo apprezzare nella sua bellezza in modo tale che anche eventualmente i turisti che lo possano visitare ne apprezzino la bellezza di quanto hanno sotto gli occhi. Grazie molte. Grazie mille sindaco. Grazie. Grazie.